Appena arrivato saluta le mora e poi saluta a voi, cari patrona e poi saluta a voi, cari patrona E fammi sastrina, e fammi l'edifico, e molto stavo a nostro bielo marito, e molto stavo a nostro bielo marito. A un tipo di salzone, una persona li ha toshiazza, e fammi sastrina gallere tutta, e fammi uno su어가 si è un cittadino gallere hone in questo bielo marito, e fammi LISAI, testimonialare le ruzie spettacizioni contrôle, se non sono sensitive per l'èfficio, e fammi sastrina gallere tutta, le ruzie spettacizioni qualificano facile per laücht di Q. ma mi posso fare una figlia regina ma mi posso fare una figlia regina mi parla je non mi parla lascia con l'amisa non mi parla a ballare a bontà c Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501